Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli, e la compagna, età, foto e Instagram. I due piccolini sono nate dall'amore di Enrico e Giulia Diana, al quale il cantante è legato ormai da cinque anni. Una dedica dolce è quella dell'artista e sui due neonati, benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita. Per tutta la vita. Il vostro babbo. La neomamma è un'insegnante di danza che un suo studio personale laboratorio di danza e movimento sempre sui social era stata resa nota alla gravidanza. Un annuncio viaggiato velocissimo sui social che ha riempito di gioia i fan del cantante e che hanno atteso con ansia l'arrivo della lieta notizia. Ma il nome di Nigiotti è stato legato anche a quello di Elena Damario, i due hanno preso parte insieme all'esperienza di amici. Il cantante, nonostante il grande successo che stava riscuotendo decise di lasciare il talent per dare spaccio a quello che in quel momento credeva fosse l'amore della sua vita, Elena. I due sono stati insieme per un anno, finché la ballerina non fu chiamata negli Stati Uniti e la lontananza ha probabilmente provocato la fine della relazione sentimentale. Uniti e la lontananza ha probabilmente provocato la fine della relazione sentimentale. Uniti e la lontananza ha probabilmente provocato la fine della relazione sentimentale. Uniti e la lontananza ha probabilmente provocato la fine della relazione sentimentale.